Le sentenze vanno rispettate, il commento dell'assessore regionale all'agricoltura Donato Penta Suglia sulla decisione del TAR di Bari in relazione ai ricorsi presentati dai proprietari dei terreni interessati dalle prescrizioni previste dall'osservatorio fitosanitario della regione necessarie per contrastare la diffusione della xylella. Il TAR ha nei giorni scorsi sospeso l'efficacia dei provvedimenti regionali di abbattimento delle piante monumentali risultate infette. Io resto dell'avviso che la pianta va eradicata secondo quello che la scienza ci dice. La nostra regione ed io ho fatto provvedimenti perché sia la capitozzatura sia l'innesto sia una pratica, una delle più antiche, sempre fatta in agricoltura che si è data la possibilità. Il bando sugli innesti è stato utilizzato da pochissime persone, infatti stiamo rimettendo a bando le risorse residuali. Rispettiamo quella sentenza ma andiamo avanti pancia a terra a fare il monitoraggio con il molecolare e soprattutto a convincere le persone che le piante malate vanno eradicate. La giunta regionale pugliese ha chiesto intanto al ministero delle politiche agricole l'emissione del decreto di declaratoria per infezioni causate dalla diffusione della fitopatia nelle campagne di Brindisi, Taranto e Lecce per il 2020, per consentire alle aziende danneggiate l'accesso al fondo di solidarietà nazionale.